In vista della settimana mondiale del cervello, la Fondazione Piccola Opera Caritas di Giulianova ha organizzato dal 14 al 16 marzo nel Comune Costiero un evento di studio sull'intelligenza emotiva. L'appuntamento a cui prenderanno parte autorevoli relatori di fama internazionale sarà l'occasione per comprendere e approfondire il ruolo delle emozioni sulla salute mentale negli anni segnati dalla pandemia da Covid-19. Al centro dei convegni le nuove conoscenze sull'intelligenza emotiva utile al miglioramento del benessere dei curanti e della qualità dell'assistenza. Abbiamo scelto da tempo di intraprendere percorsi dentro l'intelligenza emotiva mossi da ciò che in questi ultimi due anni in fondo ci ha accompagnati e ci ha travolti all'inizio e poi continuano ad accompagnarci anche se vorremmo lasciarcelo alle spalle. Ci siamo posti oltre che le attenzioni nei confronti dei nostri ospiti, pazienti, dei loro familiari subito quella dei nostri operatori, dei curanti. L'attenzione ai curanti, l'attenzione ai volontari, dei nostri servizi sociali, la mensa è stato davvero un dovere per noi. Perché l'intelligenza emotiva? Perché attivare, allenare, davvero mettere in gioco quella parte di noi va molto molto oltre quella che abbiamo chiamato in questi due anni resilienza. Ci rende protagonisti, attivi. Dentro questo tempo, che comunque è un tempo che chiede a noi cambiamenti, nulla come l'intelligenza emotiva ha la forza e offre le energie e le persone per poter stare dentro il cambiamento. Dobbiamo ringraziare la piccola opera che con l'amministrazione comunale ha un rapporto strettissimo che si salda nella notte dei tempi. Adesso, dopo l'apertura dell'RA di Villa Volpe, dove siamo riusciti finalmente ad accreditare quella struttura, si portano avanti dei progetti di carattere nazionale ed internazionale. Quindi siamo contentissimi che una manifestazione così importante non venga fatta in una capitale, per esempio, una capitale europea, ma venga fatta qui a Giulianova. Questo fa capire anche quando noi stiamo innalzando il livello delle nostre strutture sul territorio, la piccola opera dà delle risposte incredibili a delle persone che in questo momento hanno ancora di più necessità di avere delle rassicurazioni.